Peugeot la Pelusa presenta Regeneration, la nuova generazione di automobili. Vieni a scoprire la nuova Peugeot 208, agile, sicura e efficiente, ma soprattutto innovativa. L'innovazione negli interni con il nuovo posto di guida, semplice ed intuitivo. Un volante di dimensioni ridotte ed un quadro strumenti posto in posizione rialzata. Condividi con il Bluetooth integrato ed il nuovo grande schermo touchscreen. Da oggi non avrai più confini, anche con il prezzo, a partire da soli 9.950 euro, con finanziamento a tasso zero. La Peugeot la Pelusa ti aspetta in Contrada Maglianiello ad Atena Lucana Scalo.